Allora, Presidente, io richiamo a una delle ragioni per le quali siamo qua. Fratelli d'Italia ha calendarizzato come quota dell'opposizione una mozione sull'Italia che giaceva da un po' di tempo in attesa di essere discussa. E lo fa dopo che si è riunita la Commissione competente e il Parlamento è stato anche delegittimato nella sua funzione da un signore nominato dal Governo che ha ritenuto utile spiegare con franchezza che agisce disinteressandosi di quello che la politica intende proporre. Ora, per quanto io conosco la politica, ne esiste una degenerata che va colpita e va penalizzata. Esiste invece il ruolo della politica, quella sana rappresentativa, e il Parlamento questo deve rappresentare che invece deve essere ascoltata. In particolare in un'azienda pubblica che è stata pagata con i soldi dei cittadini, che ha avuto tante perdite in passato, che è stata osservata spesso come un problema per la nazione senza comprendere probabilmente che invece il ragionamento doveva non partire dal particolare ma doveva partire dal più generale interesse di una nazione come la nostra di tutelare un'azienda trovando il metodo per farlo. E allora la discussione di oggi per quello che riguarda Fratelli Italia non è rinviabile, nel senso che a seguito della commissione nella quale il signor Altavilla, il dottor Altavilla, il commissario Altavilla, ha proferito parole forti nei confronti della politica etichettandola come un estraneo rispetto alle dinamiche che riguardano un'azienda di Stato, io ritengo che sia irrinviabile per il Parlamento assumere una posizione quale essa sia. Non ci sentiamo i detentori della verità. Abbiamo chiesto a questo Parlamento, facendo le nostre proposte, il collega Rampelli in dichiarazione di voto spiegherà nuovamente, così come hanno fatto gli altri colleghi che si sono interessati in discussione generale come il collega Silvestroni. È evidente che quello che io chiedevo, la presenza del ministro Franco, serviva a corroborare la discussione e renderla più trasparente. Non può essere oggetto di rinvio di questo tema. Si ne dia, ma non significa a qualche giorno. L'emergenza sociale che è dietro questa vicenda, oltre quella imprenditoriale e oltre quella nazionale, è dietro l'angolo. Si rischia che nella manifestazione di venerdì, di venerdì, che i sindacati hanno annunciato, se il Parlamento non si sarà espresso dando delle indicazioni, qualcosa di negativo accade e questo rischio, questo Parlamento non se lo può permettere perché sarebbe da irresponsabile. Quindi ho sentito oggi la collega del Partito Democratico ribadire che la discussione era utile farla oggi. Sento ovviamente parole di chiarezza dal collega Rixi che dice che è necessario che ci sia da parte del Governo rispetto. Qualora ci fosse qualche problema, il ministro Franco venga a dircelo in aula in maniera tale che il Parlamento possa apprendere come le forze politiche di maggioranza abbiano appreso per le vie brevi ed informali, ma io ritengo che qui dentro invece debba esserci la discussione che renda trasparente a chi è fuori da qui quello che sta avvenendo.